In questa stanza un arto cammino come quello al piano inferiore, sempre di materiale marmore. Questo cammino è un pregiato di quello di giù perché chiaramente gli ospiti vedevano più le sale, il mio piano dell'ingresso, le sale di rappresentanze erano al piano terra e quindi questo era meno in vista e quindi era meno pregiato. Gli ospiti non venivano meravigliati ai piani superiori, la ricchezza era tutta relegata.